domenica caldissima marito e moglie decidono di fare un giro allo zoo la mamma va a prendere il proprio piccolino a scuola c'è un pulmino pieno di suore che sta attraversando un viadotto una signora compra un armadio all'ikea come tutti i sabati nelle prime ore della mattina tre suori si recano al mercato del paese lì vicino a far la spesa mi sono fatto il vaccino come quando ero bambino signore e signori buongiorno è il comandante del volo airbus 4701 partito da fiumicino alle 9 05 con direzione lisbona che vi dà il benvenuto don luigi e don paolo due parroci si incontrano e cominciano a raccontarsi le proprie esperienze due ragazzi completamente ubriachi praticamente fradici si mettono in macchina e si mettono in marcia una mattina la maestra interroga i bambini sulla professione dei loro genitori comincia da una bambina me l'ha detto mario c'hai provata che con lui quando era in seminario gli altri preti hanno urlato quando t'hanno vista amato facci dovonare all'esorcista che 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 Grazie per la visione!